Musica Non potevo portarmi un bellone di ciurra? Non è che pensaste un po' Eh, non sappia che ero qui Ma andai No 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 Eh, ma va No 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 Già! 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 Poi all'ultimo donava M Già è il giallo Già. Già, è tua traverse! Questo è tutto pieno di carta Qui dentro ci sono una tonnellata e 800 kg di carta Bene, missione compiuta Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è